Bentornati a Verona Economia, parliamo sempre di prodotti tipici locali, parliamo di un prodotto principe della nostra cultura culinaria ed enogastronomica ovvero l'olio e per farlo questa sera in studio con noi abbiamo il direttore di AIPO Enzo Gambin, benvenuto direttore. Grazie grazie di averci invitato a presentare la nostra associazione. Innanzitutto chiariamo per il nostro pubblico insomma cos'è AIPO, quali sono le sue funzioni principali soprattutto il raggio d'azione perché si estende a livello interregionale. AIPO è un'associazione interregionale di produttori olivicoli con oltre 6 mila soci che abbraccia un'area vasta, il Veneto, il Friuli, Venezia e Giulia, Trentino Alto Adige ma anche associati in altre regioni italiane. Ce li abbiamo anche in Marocco circa 1800 associati in quell'area olivicola importante per l'Europa. Qui vediamo il sito internet dell'associazione se qualcuno volesse approfondire abbiamo insomma un riferimento in particolare a aipoverona.it è l'indirizzo per avere tutte le informazioni più recenti che riguardano appunto AIPO. Un altro sito internet lo mostro, Sol AgriFood torna al Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità a Verona in occasione chiaramente del Vinitaly dal 10 al 13 di aprile e AIPO sarà protagonista nuovamente di questo salone. Come ci state arrivando direttore? Come vi state preparando? e soprattutto quali sono le aspettative? Ritorniamo al Sol Vinitaly dopo due anni di pausa e andremo ad incontrare oltre che ai nostri associati anche i buyer per la vendita del nostro olio. Ne abbiamo poco ma è di altissima qualità, molto apprezzato dai consumatori, entra all'interno di una gastronomia non solo nazionale ma oramai internazionale con concorso anche l'Aipo d'Argento che raggiunge quest'anno la diciannovesima edizione. Sappiamo che ci sono delle discontinuità nella produzione dell'olio, annate meno buone, annate straordinarie, in particolare quest'ultima non è purtroppo così buona dal punto di vista quantitativo. Come tutte le piante da frutto ci sono delle annate di carica e delle annate di scarica. Però in questi ultimi anni l'aspetto climatico ha esasperato l'attività di produzione e l'attività di non produzione per i nostri oliviti. La stiamo valutando da un punto di vista scientifico e ci sono delle università, l'Università di Trento, l'Università di Padova che stanno studiando su questo fenomeno. Anche noi come Aipo abbiamo già intrapreso da circa 4 anni delle attività di ricerca specifica applicata sulla coltivazione dell'olivo con dei risultati che cominciano a dare dei risultati. La pandemia, dicevamo, il biennio che abbiamo passato e che ha messo in difficoltà ha segnato un po' il mercato generale dell'olio oppure tra import e export, insomma, perché sappiamo che tutto il settore orecano è andato un po' in difficoltà, la ristorazione ha inciso questa tragedia, possiamo anche definirla così, nel vostro mercato. In questa tragedia, come Ben ha definito lei, il mercato dell'olio di oliva, l'estravergine soprattutto, ha avuto però un affrancamento nei consumi, proprio perché il consumatore è andato a riscoprire un prodotto che non ha solo profonde radici storiche e culturali, ma anche geografico produttive, andando a riscoprire questo prodotto e introducendolo nella propria alimentazione, proprio come un beneficio che viene portato sulle tavole, non solo da un punto di vista di piacevolezza, ma anche di tanta salute che si può trovare in queste gocci di olio. Di vino se ne parla in lungo e in largo, di olio un po' meno, non che sia meno importante, anzi, all'interno della dieta mediterranea, all'interno della nostra alimentazione. Voi cercate in tutti i modi, chiaramente, di creare una cultura legata all'olio, non da ultimo anche un recente evento internazionale che si è svolto a Mezzane. Beh, certamente la nostra missione, fra le principali, è quella di valorizzare la produzione olivicole, ma soprattutto anche olearia, di portare la cultura dell'olio di oliva che ci appartiene, una cultura latina, una cultura mediterranea, antichissima, come è antichissima la produzione dell'olio nel Veneto. Facciamo corsi di degustazione, corsi anche per l'utilizzo dell'olio nella gastronomia, formazione soprattutto per i nostri soci, per i nostri olivicultori, ma soprattutto anche per i frantoiani, che vadano meglio a definire le caratteristiche chimiche e organolettiche delle nostre produzioni. Certamente non ne abbiamo molto rispetto ad altre regioni di olio, rispetto alla Puglia, rispetto alla Calabria, però stiamo diventando un punto di riferimento un po' per tutta l'olivicoltura europea, soprattutto per questa capacità didattica che abbiamo. Tutte le settimane, come AIPO, facciamo un bollettino fitosanitario e andiamo a definire come un aspetto di cattedra ambulante tutti i lavori che si devono attuare all'interno di un oliveto. Lo facciamo cartaceo, ma facciamo anche delle riprese dove con facilità di immagine e di parola andiamo a spiegare agli olivicoltori e ai frantoiani tutti i lavori che si devono eseguire settimana per settimana, per 52 settimane all'anno. Tra l'altro i vostri corsi, alcuni di questi, portano in dote un bagaglio culturale importante, per esempio pensiamo alle pratiche di potatura, insegnate magari anche le nuove generazioni a potare in maniera corretta l'olivo e questo è frutto anche di un'esperienza, diceva prima, millenaria. Quindi è giusto, è importante mantenere le corrette tradizioni anche in questo senso. Certamente come AIPO abbiamo già iniziato da 20 giorni ad effettuare delle attività didattiche per insegnare a come potare correttamente. Abbiamo appuntamenti settimanali nei vari territori olivicoli della regione, o meglio del Triveneto, dove tecnici dell'Aipo con gruppi di 20, 30, anche 40 persone, ma soprattutto sono giovani, si insegna la corretta tecnica della potatura e questo vale anche per limitare quegli effetti di annate di elevata carica con annate di completa scarica sull'olivo. Direttore, grazie per questo aggiornamento importante e per averci portato ovviamente una ventata anche di entusiasmo che si percepisce attraverso la vostra associazione e bisogna sempre guardare avanti nonostante le difficoltà e Sol Agri Food sarà un'ulteriore occasione per far capire che l'olio è un prodotto imprescindibile della nostra economia. Grazie a voi e grazie di aver dato la possibilità di valorizzare ancora di più questa importante produzione del Veneto. Alla prossima puntata!